E ciao a tutti ragazzi, noi in questo nuovo video siamo qui su Minecraft, ma non siamo soli, siamo con me di Selene Ciao E oggi andremo a fare una sfida tra case Infatti, questo tema sarà case Disney Quindi io dovrò fare una casa Disney, lei dovrò fare una casa Disney E poi voi vedrete qui sopra il sondaggio in alto a destra Di chi sarà la casa migliore Non ci sono più i sondaggi No Allora nei commenti Quindi adesso andremo a costruire appunto una casa tema Disney Io penso che farò una casa, diciamo, un po' di giocattoli Tipo, ad esempio, le case di Toy Story Mentre Selene, che cosa farà? Farà di Topolino Farà la casa di Topolino Che è un gran gigino, topino gigino Allora, perché hanno tolto i sondaggi? Non è giusto Perché nessuno li usava Eh, in effetti è vero, nessuno li calcolava Erano lì in alto a destra e nessuno li usava Quindi, incominciamo prendendo dei blocchi che potrebbero ricordare una casetta Di giocattoli Come ad esempio Direi sì La berce ci starebbe Poi, il tetto in plastica Un materiale rosa Cosa di rosa? Tipo la lana La lana rosa E basta, dai Ovviamente, ragazzi Le case le voterete voi Quindi, la migliore casa La votate voi Quindi, iniziamo con delle fondamenti Quindi, adesso Selene sta facendo Il Torso di Topolino Il torso di Topolino Sembra una pietanza Il torso di Topolino È comunemente chiamato così Perché ha la forma di Topo Allora Quindi, farò la casa così, ok? Che da fuori non potrà neanche sembrare troppo Un gran che Alla fine è una casa delle bambole Però O meglio, la casa di tuoi stori Li farò praticamente Ad esempio La tizia pecorella Di tuoi stori Non so se hai capito quale, Selene Sì, ho capito Ho capito Eh, ecco Tipo quelle gas E poi magari ci metto le pecore No, aspetta È un'idea del cavolo Però, insomma, una casa Ma non è vero No, dai Non è simpatica quella Che non mi ricordo il nome Beh, quanto devono raggiungere di like? Dai, spara un numero Però, per allenarci Spara un numero Non so Spara un numero di like E' tantasette Ma è troppo Sette Sotto cinqu... No, è poco Sotto cinquanta Sotto cinquanta Sotto cinquanta Trentasette Trentasei like E portiamo un'altra serie del genere Ecco Qui l'ho detto E qui lo faccio Comunque Allora, no, no, questa casa sta venendo Non con me Sì, con Serena, ovviamente Ovviamente, ragazzi Se questa serie raggiungerò il numero di like Poi ovviamente metteremo anche delle mod Quindi adesso noi stiamo costruendo con Minecraft classico Quindi senza mod E senza niente Però, se questa serie vi piace Possiamo anche aggiungere il modo tipo deco Che a tutte cose così Che ci saranno molte più cose per arredare Eccetera, eccetera, ovviamente Ma, ma dai, perché una pecora marrone? Non ho niente contro questo con i marroni Però, è scimibianca, no? E' niente Guarda, ti regalo una cosa E' grigia Ma non basta Ti regalo una cosa Cosa mi regalo? Ti spazio Ok, qui ci sono le pecorelle Perché tu tu alzi il soffitto E guardi, ovviamente, le pecorelle, no? I guardi di piedi Ti ha regalato una cosa Pecorella arcobaleno Si qua, si tratta di pecore E' vero, posso mettere le pecorelle Brava, sei una genia Anche se non mi trovesti di aiutare Però dettagli Non ti volevo aiutare Dettagli, dai, dettagli Potresti mettere un tuo arcobaleno, allora, nella tua casa Sai che belli il tuo arcobaleno? No, non mi basta per un colore No Fai bene, guarda Perché siamo avversari Quindi dovremmo pure dire Ah, la tua casa fa schifo Però poi mi sento in colpa Quindi non lo dirò E niente Metteremo il magenta, allora Ok Molto carino Molto tutto fatto Che non posso dire Perché se no Selene mi spia Ma tanto stiamo facendo De cose completamente diverse Vabbè, ho fatto un partner in un arcobaleno Allora Quindi mettiamo Pure di fare un tavolo Per essere simmetrici E come procede il tetto? Bene Ma mi piace il tetto Vabbè, ma è invece tutta la casa, dai Ok Pecora Pecora Pecore Questa qui deve essere Casa topo Versus casa pecora Più che Più che casa disney No, ovviamente è scherzo Tu si capisce che è una casa disney Ma la mia è una casa pecora Ma dettagli, ok? Ognuno ha la fantasia che vuole Pecora Pecora Sto mettendo avanti di quelle pecore Che tu non puoi capire Ora facciamo un party di pecore Ah, quindi L'interno ci sta Ragazzi, incoraggiate tutti i selene Nei commenti Dicendogli Selene sei brava No Sì, sì Tutti nei commenti Selene sei brava Perché lei è troppo pessimista con se stessa Quindi Devi tagliare questa parte No, non la taglierò questa parte Ti denuncio Non lo so Per Non ha tagliato questa parte Ti denuncerò per qualcosa Comunque non sono neanche andata troppo fuori Meno male, dai Sì, perché noi abbiamo anche dei contorni Che è un 15x15 Però gli ho dato il permesso di uscire fuori Perché Avete presente che la casa topolino Ha quel piede giallo Che esce dalla casa? Ecco Visto che praticamente doveva uscire fuori dalla casa Allora doveva uscire a forza fuori dal plot Quindi gli ho dato il permesso di farlo Così selene può fare Tutta la casa No No, tu non sei abbastanza donna Vedi No, tu non sei abbastanza donna Nessuna è abbastanza donna Se ne vieni a fare Ma sei messato dei villager? Sì Ecco, tu sei abbastanza donna Per questo Quello qua nel camice rosa Sì, però Se vuoi togli il monociglio Una dettaglia, dai Ti perdoniamo, Geltrude, la ciccinella, ok? E la pecora scendi dai tavoli Ovviamente il letto Da cosa è coperto Di Pecore Pecore, 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 pecore Perché ovviamente La casa di zia Geltrude Una volta era ciccinella Dettagli La casa È proprio per le pecore, no? Cioè nel senso Lei ama le pecore Perché le scippa Le porta in giro E quindi è la casa così Invece la casa di Topolino C'erano i topi Ok, dai Io penso di aver finito Ora Giocheremo a briscola da soli Quindi prendiamo Lo spruce E il ferro E insieme si crea Wow, una spada in diamante Ok, aspettiamo Selene Ho un'idea Ok, allora ragazzi Visto che Selene ancora deve finire Ancora gli mancherà tanto Allora Io farò la cosa Che mi porterà alla vittoria Ovvero Una pecora gigante Arcobaleno Quindi prendiamo la clay Tipo così Per fare gli zoccoli E io ormai Sotto dei casi Faccio qualcosa Tipo col maiale E magari Facciamo quindi Se c'essimo una baby pecorella Oh ma il mio villager sta scappando Geltrode Guarda Geltrode Dovevi stare a casa Dovi impadare le pecorelle Non te ne devi andare via Profinisci nella casa Topolino È più bella Hai ragione Allora vai via Vai nella casa Topolino E non rivolgimi più la parola Lì non le troverai però le pecorelle Ecco Quindi poi chiedi scusa E te l'avevi to Ah oh c'è una pecora Ecco Ti prego non mi fa ridere Timo Va bene Che cos'hai detto? Niente Ok dopo questa pecora posso definire la mia casa cringe Basta Ora metterò Chris qui sopra una targhetta con cringe Alla mia casa Bene È finito Quasi Quindi adesso valuteremo le case Quindi iniziamo dalla mia Allora la mia è una casa pecora Temato i stori per la pecorella Questa è una pecora al cobaleno Molto carina Poi di qua si entra Poi qua c'è il tavolo Dove ci sta sempre la pecora amica di Geltrode Qui c'è la zona cucina Che sono usato carne di pecora Perché è quello che fanno E qui c'è il letto tutto imbevuto di pecore Perché quando dormi Tu fai bei conti le pecorelle Guarda prendere la testa Eh trucchi del mestiere Ok adesso andremo a vedere la casa di Selene Che è la casa topolino Hi hi ho fatto un piccolo scherzetto Che Selene non vedrà mai stato nel video Quindi dettagli Allora quindi vai spiegala che è stato polino Eh si entra Ok Faccio tutta la cucina Il divano Cose Poi si sale Si sale C'è un armario Vuoto Lo armario No non è vuoto Non è vuoto Ah ci sei tu Ci sono io È la zona piante Non riesco a uscire Non riesco a uscire Ok Ok è la zona piante No è molto carina Oppure dovete comunque pensare Che siamo senza mod Quindi Arredare è molto più difficile Comunque Spero che questo video vi sia piaciuto In compagnia di Selene Se volete altri video Mi ha fatto un 36 like Da Newton Si se ne è tutto Ciao ragazzi